Ben ritrovati ad un nuovo spazio dedicato all'informazione. Tre uomini richiedenti asilo sono stati arrestati dalla polizia a Belluno perché accusati di aver creato un grosso spaccio di droga nel cuore del territorio. I tre erano ospiti all'interno di una comunità di accoglienza. L'operazione è stata coordinata dal servizio centrale operativo e dalla direzione antidroga. È stata condotta dalla squadra mobile bellunese. Traffico viario in tilt nel pomeriggio di ieri a Venezia a causa di un incidente avvenuto poco dopo il Ponte della Libertà nelle vicinanze di Piazzale Roma. Una macchina forse in fase di sorpasso ha urtato il tram su un lato rimanendo incastrata tra il mezzo pubblico e la barriera di protezione della rotaia. La donna che si trovava alla guida dell'automobile è rimasta ferita in maniera leggera. Illesi i passeggeri del tram e il traffico verso Venezia è stato a lungo bloccato. In tutto il territorio del Lido di Jesolo, arenile compreso, è previsto un divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche. Si tratta di un'ordinanza emessa dal Comune per questo periodo delle vacanze pasquali. Sentiamo. A Jesolo, per contrastare l'abuso di alcol durante il periodo festivo, il Comune ha emesso un'ordinanza. Vietata la vendita per asporto di bevande alcoliche di qualunque gradazione, effettuata anche attraverso distributori automatici, dalle ore 22 di sabato 20 aprile fino alle 24 di lunedì 22 aprile. Rimane consentita la vendita per asporto solo di bevande alcoliche per uso domestico, che dovranno essere chiuse in appositi involucri. In caso di violazione dell'ordinanza, oltre all'accertamento di eventuali responsabilità penali, è prevista una sanzione amministrativa di 200 euro. Anche la Corte d'Appello di Venezia ha respinto il ricorso di un imam della Comunità Islamica di Vicenza, che era stato licenziato da un'azienda di facchinaggio perché si rifiutava di toccare gli articoli contenenti sostanze alcoliche. L'azienda, una cooperativa, ha avviato un disciplinare all'inizio di questo rapporto di lavoro che si è concluso con il licenziamento dell'uomo. Uomo che avrebbe avviato una causa di lavoro, ma la sentenza è stata confermata anche nei successivi provvedimenti. Bocconi avvelenati per uccidere i cani sono stati segnalati nella provincia di Vicenza. L'ultimo episodio che sta facendo anche il giro dei social riguarda un cagnolino di una persona disabile, un anziano che viveva in simbiosi con il suo amico a quattro zampe che è improvvisamente morto. L'animale avrebbe ingerito uno di questi bocconi mentre era in un parco a Montecchio Maggiore. Tempo di vacanze, allora sentiamo gli esperti cosa prevedono per i prossimi giorni nei quali sono previsti molti spostamenti. Tempo primaverile fino alla domenica di Pasqua con temperature sopra le medie. Poi, a partire da Pasquetta, si assisterà ad un lento peggioramento. È la previsione degli esperti di trebimeteo.com. Avremo qualche giorno dal tempo soleggiato su gran parte d'Italia. L'alta pressione garantirà una fase stabile e soleggiata con temperature emiti su gran parte delle nostre regioni fino al weekend di Pasqua, affermano gli esperti precisando che fino a Pasqua le perturbazioni rimarranno lontane dalla nostra penisola. Così tenderà ad attenuarsi la variabilità presente su Sicilia e Calabria per un blando sistema nuvoloso e gli unici disturbi saranno legati a una modesta attività cumiliforme sui rilievi con qualche acquazzone o breve temporale. Le temperature tenderanno ad aumentare portandosi sopra le medie tipiche del periodo. I valori risulteranno miti da nord a sud con massime comprese tra 17-20 gradi e punte di 21-22 in Val Padana e sulle regioni tirreniche. Gli ultimi aggiornamenti confermano dunque gli esperti di trebimeteo.com evidenziano come la Pasqua sia nel complesso discreta e mite. Per Pasquetta invece ci sarà la tendenza ad un peggioramento nella seconda parte del giorno per una bassa pressione afro-mediterranea accompagnata da un rinforzo del vento di Scirocco. Un'evoluzione e questa concludono che comunque necessita di conferme. La mancata assegnazione di risorse idonee per l'insegnamento della lingua italiana, per l'inserimento lavorativo e per la valorizzazione delle competenze delle persone connesse all'entrata in vigore del decreto immigrazione e sicurezza dell'ottobre scorso ha indotto la Caritas di Treviso e di Vittorio Veneto assieme ad altre cooperative sociali a non partecipare alla gara della prefettura di Treviso per l'assegnazione dei servizi di accoglienza. Lo hanno comunicato i rappresentanti del gruppo di operatori ricordando come fino ad oggi abbiano lavorato nella prospettiva dell'inclusione delle persone, tentando di superare la prospettiva dell'emergenza perseguita invece come unica possibilità e livello istituzionale. Abbiamo un'altra notizia che riguarda il territorio. Ritorniamo a Venezia. Un giovane è stato brutalmente picchiato, ma in questo caso non sembra si possa trattare della baby gang, già responsabile di altre violenze nella città lagunare. Sentiamo cosa è accaduto. È ricoverato all'ospedale dell'Angelo Amestre un giovane che è stato aggredito e picchiato a Venezia. L'aggressione si è consumata in campo Santo Stefano. Ad affrontarlo un gruppetto di uomini non viene escluso un possibile regolamento di conti o che comunque il ragazzo conoscesse i suoi aggressori. Sono in corso indagini per ricostruire l'episodio di estrema violenza. E in questi giorni a Venezia la tensione è molto alta a causa della baby gang che ha compiuto numerosi pestaggi, ma in questo caso sembra esclusa la possibilità che siano stati loro ad entrare in azione. E adesso l'appuntamento è con la rubrica di approfondimento dedicata al Fisco. Allora diamo subito la linea Fisco Pop con il ragioniere Alberto De Franceschi, esperto tributarista. Bentornati a Fisco Pop, questa sera proseguiamo con il 7.30 precompilato e andiamo ad analizzare quali sono gli altri dati che potrete verificare e visualizzare, questo solo fino al 2 di maggio, perché poi potete proprio fisicamente andarli a correggere o anche a confermare. Cosa vediamo nel 7.30 precompilato? Allora la prima sezione che possiamo leggere sono i dati anagrafici e sui dati anagrafici vi ricordo attenzione ai cambi sede, eventualmente alle variazioni del nucleo familiare. Vi è nato un figlio, vi è deceduto un parente che però viveva con voi, insomma delle situazioni che vanno un attimo controllate, ma ne parleremo nel dettaglio quando faremo la puntata dei carichi di famiglia che specificherà bene questo aspetto. Secondo aspetto che andremo a leggere sono le cosiddette proprietà immobiliari, quindi verificare se ci sono variazioni, incrementi, diminuzioni di rendita, cioè se il vostro patrimonio immobiliare, la casa dove abitate o le proprietà che avete al mare, ai monti o dovunque esso siano, sono cambiate e hanno subito delle variazioni. Terzo aspetto, la certificazione unica, ovvero sia i dati di reddito, quelli del vostro dattore di lavoro. Quarto aspetto, le spese sanitarie. Ecco, sulle spese sanitarie voi troverete una identificazione fatta per tipologia di tessera sanitaria, quindi vedete il vostro numero di tessera sanitaria, diversificato tra spese soggette a fattura e spese soggette a scontrino fiscale. Ecco, dovete un attimo recuperare tutto quello che avete a casa e vedere se gli importi che vi propongono sono esatti. Una volta fatto questo lavorone di spunta e verifica, il 7.30 per compilato è stato da voi debitamente visionato e potremo confermarlo e trasmetterlo per avere gli eventuali rimborsi. Un dato interessante è un consiglio che potete utilizzare se accedete direttamente al fisco online, cioè al 7.30 per compilato. Avrete anche la possibilità di visualizzare le dichiarazioni preesistenti e qualora vi siano delle anomalie potrete trovare dei messaggi nell'area sezione messaggi. Ecco, questa è una cosa che molto spesso non viene utilizzata, tant'è che come vi ho spiegato nelle puntate precedenti, all'inizio quando vi loggate dovete cambiare password, ovviamente perché da tanto tempo non vi loggate. Ogni tanto controllate e soprattutto potete verificare e ristampare, quante volte vorrete, le dichiarazioni precompilate degli anni precedenti cambiando nel link che è in alto a destra la visualizzazione anni precedenti e quindi troverete le altre dichiarazioni. Attenzione, solo visualizzare e stampare e non modificare perché ovviamente sono già chiuse. Concludendo, oggi vi faccio gli auguri di una buona e serena Pasqua per tutti quanti. Vi informo sindora che la prossima settimana, visto le festività, non andrà in onda Fisco Pop e riprenderemo la programmazione con la puntata di martedì 30 aprile. Grazie ad Alberto De Franceschi per la rubrica Fisco Pop. Adesso noi proseguiamo il nostro telegiornale parlando dei nostri cieli. Ne stanno parlando un po' tutti. Si sta preparando la cosiddetta luna rosa. A dispetto del nome non sarà il suo colore, ma lo spettacolo affascinante merita davvero di essere guardato. Occhi puntati al cielo nelle prossime ore. Venerdì 18 aprile arriva la luna rosa. Prende il nome dai fiori color rosa magenta che in alcune zone degli Stati Uniti si trasformano in vere e proprie distese affascinanti. Dunque viene chiamata luna rosa, ma non per il suo colore. Sarà però una luna piena, particolare, garantiscono gli esperti. Sarà visibile in più momenti. Il massimo della grandezza è prevista venerdì 18 alle 13 e 12 minuti. Anche se il cielo sarà chiaro, lei sarà ben visibile ad occhio nudo. Questo è anche il momento in cui il nostro satellite sembra più grande a causa di un'illusione ottica, spesso definita illusione lunare. Anche nella notte precedente ci sarà una super monna, quindi occhi al cielo e non perdetevi lo spettacolo. E adesso diamo uno sguardo a cosa prevede Arpav sul territorio Veneto. Fino a domenica, giorno di Pasqua, avremo ancora condizioni anticicloniche, anche se non nettamente sviluppate a tutte le quote. In prevalenza il cielo sarà sereno, poco nuvoloso, temperature in andamento variabile, ma non troppo distante dalle medie tipiche del periodo. Lunedì però la pressione sarà in calo. La caratteristica saliente sarà il graduale aumento della nuvolosità. Saranno possibili anche delle modeste piogge. È tutto per questa edizione. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci a domani. Buona serata. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS